E' così riposante questo scenario e l'acqua azzurra di questa piscina che ci invita così a stare qui e a non parlare, ma dobbiamo invece cominciare la nostra trasmissione. Oggi sempre qui dai Damiani parleremo invece di scuola e delle ultime novità. Come dicevo in apertura oggi parleremo di scuola ed è tornato a trovarci il professore Enzo Ciotola che è dirigente scolastico dell'Istituto Galileo Ferraris. Grazie di essere qua, comunque siamo bene preside nel fresco dei Damiani, dei giardini dei Damiani. Quest'inverno ci siamo incontrati, abbiamo parlato di tante cose, di attualità allora ma che lo sono ancora adesso. Il concorso a preside è uno delle note dolenti di questo anno scolastico. Qual è lo stato dell'arte, qual è la situazione oggi? La situazione attuale è che il Tarre si è pronunciato nel merito ed ha respinto il ricorso degli esclusi dal concorso che avevano protestato per la composizione delle commissioni. Quindi a settembre dovrebbero riprendere i colloqui orali per coloro che avevano superato le prove scritte. Naturalmente sempre se che i ricorrenti probabilmente si appelleranno al Consiglio di Stato e quindi la vicenda come tutte le storie italiane sarà sempre presente, anche ci accompagnerà. Tanto come le sa sicuramente in Italia quest'anno per i concorsi è successo il più e il molto perché in Lombardia sono fermi, addirittura in Lombardia hanno rimbustato le prove e le ricorreggono un'altra volta come incognite. come prove incognite. In Toscana è stato sospeso, addirittura i nominati debbono ritornare indietro. Abruzzo e Molise è fermo per cui è ancora tutto in alto mare e probabilmente questa vicenda dei concorsi con i tempi della giustizia italiana si risolveranno nel prossimo decennio. Restiamo sempre, parliamo ancora dei dirigenti scolastici, quest'anno ci saranno dei trasferimenti anche importanti perché sono molti i pensionamenti? Sì, quest'anno c'è il pensionamento dei vincitori del concorso dell'84 per cui abbiamo le scuole più in di Napoli che perderanno la dirigenza, il Mercalli, il San Nazaro e il liceo artistico e scuole storiche di Napoli perderanno il Genovese, rinnoveranno tutti quanti la presidenza. Per cui avremo movimenti di grosso respiro e già è cominciata la ricerca degli appoggi più giusti per arrivare alle sedi ambite. Noi ci auguriamo che questi new entry siano all'altezza di coloro che vanno via, che hanno reso veramente storici questi famosi licei, scuole superiori. Io ho la speranza perché dopo 28 anni di presidenza mi auguro che le scuole abbiano al comando qualcuno che sappia cogliere l'autonomia, che sappia cogliere i cambiamenti degli apprendimenti, delle modalità di apprendimento e che sappia cogliere anche le necessità del territorio rinnovando i percorsi di formazione verso un avanzamento non solo delle tecnologie ma anche per le materie umanistiche. Parliamo adesso invece di docenti, ci saranno in missioni il ruolo per queste persone che aspettano da la vita? Sicuramente ci saranno le missioni in ruolo anche perché stanno terminando i concorsi, le prove del concorso a cattedre. Le commissioni veramente hanno lavorato in una maniera molto concreta e coerente con gli impegni che avevano preso con i partecipanti. Le commissioni hanno quasi tutti quanti ultimate la prova orale, stanno analizzando i titoli e credo che nelle prossime due settimane avremo le graduatorie dei vincitori i quali sicuramente dal primo settembre entreranno sui posti che loro aspettano. Poi abbiamo la novità di capodipartimento del dottor Luciano Chiappetta, nostro amico ormai è diventato il numero uno del ministero della pubblica istruzione e credo che la campagna non potrà che avere beneficio dalla presenza... Questa persona così seria e preparata. ...la persona seria e preparata, proprio in vetta, a quella che è proprio... È una garanzia. È una garanzia per tutti. Ho l'onore di conoscerlo e concordo con lei. Invece si ricorda questo inverno quando ci siamo incontrati, non al precedente intervista, abbiamo parlato di un ricorso fatto da voi dirigenti scolastici sulla riduzione dei vostri stipendi. Qual è la situazione adesso? La situazione attuale è che abbiamo presentato in tutte le regioni italiane i ricorsi al giudice del lavoro e quindi aspettiamo, abbiamo le prime udienze verso febbraio dell'anno prossimo, avremo le prime udienze e quindi vedremo un poco quale sarà l'orientamento dei giudici in ordine a questa faccenda. La cosa importante è che abbiamo concluso la prima fase con oltre 750 ricorsi presentati in tutta Italia. Sempre per restare così nell'ambito dei problemi che nella scuola non ci facciamo mai mancare, i presidi sono terminati da poco gli esami di Stato. Ogni anno ci sono stati vicissitudini, problemi, però quest'anno in particolare è dovuto intervenire a di più la Procura della Repubblica. Come mai? Beh, quest'anno abbiamo avuto proprio l'apice delle problematiche relative ai cosiddetti diplomifici, dove praticamente la Procura della Repubblica addirittura è intervenuta il giorno degli esami andando a bloccare a Torri Annunziata, a Pompei, a Nola, delle sedi dove praticamente risultava un numero di alunni esorbitante rispetto a quelle che erano le capienze di queste istituzioni. E in effetti anche lì è intervenuto l'ufficio scolastico regionale, aveva bloccato poi la prosecuzione degli esami, avendo per ammissione degli stessi candidati gente che non aveva mai frequentato e che era solo venuto per quello specifico adempimento. Però poi lì, siccome il nostro è un paese garantista, anche se sul penale ci sono state queste ammissioni di grosse problematiche, il TAR invece ha guardato al diritto del cittadino e ha consentito che comunque questi giovani sostenessero l'esame di Stato. Quale sarà la soluzione di questo problema? Credo che prima o poi bisognerà intervenire e dare, perché l'offerta tra scuola pubblica e scuola paritaria deve essere identica, però bisogna moralizzare la vita, però sia nella scuola pubblica che nella scuola paritaria e probabilmente questi interventi della magistratura avranno questo effetto. Noi ci auguriamo che sia il sistema da solo a depurarsi e quindi migliorare, però naturalmente, anche come è successo con la politica negli anni 90, c'è sempre bisogno di questa magistratura per dare delle indicazioni di funzionalità e di indirizzo. Bene, allora siamo quasi in chiusura. Un'ultima domanda. Quest'anno per la scuola italiana è un anno particolare, perché va in pensione anch'essa la vecchia normativa e andrà in vigore. La nuova normativa, con quali vantaggi, quali cambiamenti? I cambiamenti sono sostanziali, perché nella nuova scuola, come lei ben sa, lo studente è al centro della ricerca e della formazione, per cui non è più il programma ministeriale, non sono più le voglie di persone che seduti dietro la scrivania, scrivevano programmi, dettavano tempi, dettavano metodologie e dettavano cose che ormai sono arcaiche e obsolete. Per cui oggi la scuola si è rinnovata, e questo poi è l'impegno anche dei nuovi dirigenti, che dovranno riproporre all'interno delle scuole questo spirito di rinnovamento, perché in un paese che funzioni, la scuola deve funzionare. Se non funziona la scuola, il paese muore. Ed è questa la grossa scommessa che dobbiamo vincere. Il nostro paese deve rinnovarsi e per rinnovarsi ha bisogno di una scuola di qualità, pubblico, paritaria che sia, o cattolica, religiosa, tutto quello che diavolo si vuole, ma deve essere una scuola che forma le coscienze, che forma i tecnici e che forma i cittadini. Io la ringrazio per queste parole, mi associo per quanto riguarda appunto questa convinzione sulla centralità della scuola, ma di una scuola che sia utile e che sia valida per un buon paese. Solo dove ci sono giovani sani e preparati può funzionare tutto. Io la ringrazio per la sua disponibilità. Le auguro buone vacanze. Buone vacanze pure a lei. Anche a lei, perché anche noi fra poco andremo in vacanza. Grazie per l'attenzione e alla prossima.